E giunge alla redazione di Corrente TV il grido di allarme di alcuni artigiani maddalenini preoccupati per le sorti economiche dell'isola e per una panorama, per una situazione economica che sembra avere le prospettive più negative. Siamo nella falegnameria di Angelo Bifulco al quale chiediamo, da dove nascono le preoccupazioni degli artigiani? Intanto saluto e ringrazio la vostra TV. Il grido di allarme nasce da circa tre anni fa, da quando io tre anni fa sostenevo e continuo a dire che l'avere, tra parentesi, diciamo la nata via degli americani o l'abbiamo o sono andati via, a noi isolani ci ha fatto male, male perché da tre anni a questa parte non c'è stato un risvolto da poter dire sì, gli americani sono andati via, abbiamo fatto altre cose, del tipo turismo, del tipo alberghiero oppure fatto porto, banchinamenti e quant'altro. Mancando questo, interno a questa parte l'economia è scesa in maniera paurosa. Quello che dico è che il bisticciare, che lo vediamo ogni giorno, tutti questi enti che bisticciano non porta nulla di produttivo a questa comunità. Quello che voi state vedendo non è altro che un inizio di una resa di materiale in giacenza che dura due anni a questa parte e ho deciso per salvare le mie aziende di renderla a chi me l'ha venduta due anni fa per cercare di far sopravvivere le mie aziende. Quando io un mese fa ho detto che noi artigiani, noi commercianti, noi operatori, ma anche tutti i madrenini un altro inverno come questo non lo passeremo. Questo è l'esempio che io ho il coraggio a 51 anni di ridare indietro roba che ho pagato col mio sudore alle aziende e ho chiesto gentilmente di darmi indietro materiale che sono sicuro materiale diverso, che venderò al quotidiano, cosa vuol dire? Al privato, singolo madrenino, perché i cantieri non ce n'è, sviluppo non ce n'è, alberghi aperti non ce n'è, il porto non si fa, l'assessi il villaggio è chiuso, gli alberghi sono chiusi, sono stanco di dire queste cose. Io sto impacchettando tutto, perché dirlo forse sarà anche per me una vergogna, ma io o tengo i miei figli, o pago i fornitori, o pago Equitalia e per pagare Equitalia sono costretto a vendermi quello che ho a casa. Io nel 2010 a Equitalia ho dato 50 mila euro in 12 mesi, quest'anno non riesco a pagare Equitalia, sicuramente mi porteranno via la casa, mi porteranno via i miei beni, ma io non posso fare altrimenti. La prova è questa, vi ho chiamato apposta a farvi vedere che roba che ho fermo in giacenza da due anni fa, la sto non vendendo, la sto svendendo per fare cassa. Quella pedana che tu vedi là è già pronta ad essere impacchettata, questa pedana qua fra un po' la chiuderò e tu hai assistito alla mia telefonata che mi hanno fatto cinque minuti fa, da poco, che era il mio acquirente, contattandomi che venerdì verrà l'Agneddo e trasporto a caricarsi il materiale e sarà uno dei tanti viaggi che farò fare. E sono due gruppi elettrogeni che si dovrebbero accampare da soli, invece ahimè non riesco neanche a pagare più il leasing perché lavoro non ce n'è, cantieri non ce ne sono. E ripeto ancora una volta, questo è un grido d'allarme che lancio da circa due anni, forse nessuno mi dava ascolto e oggi siamo arrivati a questo. Ma io almeno ho il coraggio di dirlo, gli altri non lo so se hanno questo coraggio di chiamarvi e farvi vedere la realtà che c'è alla Maddalena. Io non sto incolpando nessuno, nomi non ne ho fatto né da una parte né dall'altra, questa è la realtà. La realtà è che la mia ditta che ha 30 anni di storia sicuramente quest'anno chiuderà i battenti perché io non riesco più a sostenere il carico che ho di costi che ho attualmente. Angelo, la misura della crisi, dove stiamo entrando adesso? Guarda, non ho neanche più la forza di parlare perché sono due anni che grido alla luna in questo paese e ho chiesto aiuto a tutti quanti. Adesso che entriamo in questo magazzino chi sa stimare questo tipo di merce, che è merce di ferramenta per privati, per carpentieri, muratori, elettricisti, falegnami, sa cosa c'è in questo magazzino. Centinaia di mila euro di roba acquistata due o tre anni fa, in venduta, ho cercato in un anno, un anno e mezzo di metterla a prezzi scontati del 30-40%, ho venduto pochissimo, ho deciso, e lo continuo a dire poco fa, l'abbiamo visto anche nel mio piazzale d'altra parte, ho deciso di contattare le aziende madri del continente e a mie spese manderò indietro la roba pur di ricavare qualche soldo, ripeto, per campare la mia famiglia, quindi ho deciso con sofferenza di vendere, di svendere le mie cose, perché l'unica salvezza che ho per, ripeto, pagare i fornitori, pagare gli affitti che devo al Comune della Maddalena, e pagare Equitalia. L'entrata in funzione a pieno regime di un struttura come quella del Porto Arsenale potrebbe in qualche modo risollevare le sorti delle imprese artigiane come la tua? Ma, ne sono sicurissimo, l'abbiamo visto l'anno scorso, quando hanno organizzato la Guiton Cup, cioè in un mese, quanto lavoro ha portato, quanto lavoro si è fatto e quanta economia si è prodotta per fare quel tipo di manifestazione. Ripeto, noi mandarinini purtroppo abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Uno dei difetti è che siamo gelosi uno con l'altro. Se fossimo più intelligenti avremmo copiato quello che fanno i nostri cugini palaesi, i nostri cugini di Portopollo, di Portopozzo, di Canigione e altri siti senza andare lontano, senza andare a Olbia, senza andare oltre Portorotondo e quant'altro. Cioè, mentre gli altri hanno fatto, senza soldi pubblici, hanno fatto porti, porticcioli, edde, piscine e quant'altro per infrastrutture turistiche, noi siamo ancora rimasti al palo. Quello che dico così in generale, ripeto ancora una volta, non do le colpe da una parte e dall'altra, è che ci vorrebbe più tranquillità, più sinerità, ci vorrebbe più gente che davvero lavorasse per questo paese. Il nostro è un paese di mare, dove i giovani non hanno un punto di riferimento, dove non hanno una piscina. Anche qua, forse vi rubo altro tempo, io so gente del continente, ditte serie, corrette, grandi gruppi, ripeto, corretti, che io ci lavoro da anni, io so che hanno proposto al Comune di fare investimenti alla Maddalena, in cambio avrebbero anche dato in regalo al Comune della Maddalena, perché non dirlo, piscine o campi da tennis o campi da calcio. Su questo ne sono non sicuro, al 150%. Quindi io penso che un Comune che avrebbe in cambio, a fronte di investimenti, avrebbe in cambio, diciamo, piscine e campi da tennis e quant'altro, sarebbe una bella favola. Ma con questo io non sono amante del cemento buttato in maniera così. scritta e riace. Sì, no, perché Maddalena non ce n'è bisogno. La storia ci insegna che abbiamo le nostre meravigliose isole, dove non c'è un'isola, dove non ha un patrimonio culturale, storico, un patrimonio di infrastrutture tipo castelli, tipo batterie, dove con pochi soldi si potrebbero mettere in sesto e dare seriamente occupazione ai nostri giovani. anni, cioè quando io penso, leggo, sento che abbiamo duemila disoccupati a Maddalena, mi viene il freddo, freddo perché io bene o male ho tre figli grandi, di cui una studia l'università, gli altri due, una ha un negozio in gestione di ferramenta e l'altro fa il falegname per conto suo. Ma io penso a quei genitori che hanno a casa figli di 30 anni che non sanno come sbarcare il lunario, cioè non sanno come campare, non come pagarsi la macchina, come comprarsi da mangiare, perché oggi con mille euro non ti compri niente, perché c'è molta gente che è in casa in affitto, quindi mi chiedo, mi chiedo appunto fino a quale periodo di tempo possiamo continuare così. Grazie.